Sì, grazie Presidente. Rapidissimamente per precisare che appunto in questo, come detto nella illustrazione generale, con questo emendamento abbiamo apportato delle modifiche sulla base anche delle osservazioni formulate dalla ragioneria e dal Dipartimento Sport in modo tale da avere un documento tecnicamente corretto e quindi con il favore da parte appunto degli organi che vanno a valutare la correttezza regolamentare e contabile dei provvedimenti. Quindi ringrazio gli uffici per l'assistenza fornita e anticipo ovviamente il voto favorevole da parte del Movimento 5 Stelle.